Fresco e cotto è il nuovo servizio che viene offerto da un'attività commerciale sul Rende in provincia di Cosenza rivolta alla vendita a take away di prodotti salutistici a base di frutta e verdura da asporto cotti a vapore centrifugati di frutta o sempre di verdura. Dopo tanti anni di attività che giustamente io svolgo su questo campo ho visto che i clienti cercavano sempre qualcosa in più e allora ho fatto un piccolo sondaggio e vedevo che mancava qualcosa nel lavoro perché la maggior parte delle persone che lavorano non hanno mai tempo e roba varia andava sparendo giustamente sulla loro tavola la verdura, la frutta praticamente l'unico articolo dove non si mangiava più perché non c'era il tempo come cucinarla, non c'era il tempo come farla e roba varia non si sapeva cucinarla nella nuova generazione, insomma sappiamo come vanno le cose e ho deciso di fare, aggiungere qualcosa in più alla mia attività aggiungere un prodotto a chilometro zero praticamente dove i miei prodotti tipo le zucchine, le lanzane, roba varia andavano prodotti tipo messi a vapore, in un forno a vapore una cucina molto leggera dove potevano essere adatte a tutti Il titolare di questa attività utilizza solo prodotti a chilometro zero ciò rende i piatti che escono dalla sua cucina genuini e salutari Alla base della dieta mediterranea troviamo quella che è stagionalità all'interno del negozio troviamo solo prodotti di stagione frutta e verdura di stagione convivialità e all'interno del negozio si possono consumare consumare o portare via i pasti quindi si potrebbe creare quello che potrebbe essere un momento di convivialità e non solo sono piatti indicati per persone celiache, vegane e vegetariane infatti non viene utilizzato altro che frutta, verdura e ortaggi per la preparazione di questi pasti Come cantieri di imprese abbiamo deciso di sposare questo progetto perché rappresenta una delle vittorie più importanti dell'economia calabrese e noi ci occuperemo della parte di digitalizzazione e internazionalizzazione questo cosa significa che creeremo una campagna di comunicazione e marketing che porterà il marchio fresco e cotto sicuramente al di fuori dei confini regionali ma noi ci auguriamo anche nazionali in modo da creare un'idea di made in calabria e made in italy che sia sino a minimo di eccellenza garantita in secondo luogo promuoviamo questa cooperazione che c'è tra imprenditori agricoli a livello locale proprio perché diamo valore alle reti di professionisti noi siamo una rete di professionisti che collabora per lo sviluppo delle aziende e ci sta particolarmente a cuore il settore agroalimentare i dati a livello nazionale sono sconfortanti sappiamo che nell'ultimo trimestre l'import di frutta e verdura ha raggiunto quota 300 milioni di euro la maggior parte di questi arrivano da paesi orientali dove non esistono delle normative che tutelino l'ambiente tutelino la produzione stessa quindi il risparmio economico ha poi dei risvolti negativi sulla nostra salute e quindi bisogna credere nel biologico supportare gli imprenditori come Massimo Bilotta che fanno di questi progetti delle vere e proprie scelte di vita